Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Iniziamo il nostro momento di preghiera del Martedì Santo davanti al nostro presepe pasquale, segno di questa settimana e di questo triduo pasquale che ci accingiamo a vivere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. La pace sia con voi. Preghiamo con le parole del Salmo 70, il Salmo responsoriale della Messa di oggi. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia. Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Fin dalla giovinezza o Dio mi ha istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La Chiesa ci accompagna per mano verso il triduo pasquale in questi primi tre giorni della settimana, il lunedì, il martedì e il mercoledì santo, facendoci ascoltare dei brani del Vangelo che preparano la cena del Signore, l'arresto, la passione. E continuando la lettura del Vangelo secondo Giovanni, vi invito a prendere in mano il capitolo 13, dal versetto 21. Ieri abbiamo letto il capitolo 12, i primi versetti che parlavano dell'unzione di Betania. Oggi al capitolo 13 ci troviamo già nell'ultima cena. Leggeremo i primi versetti di questo capitolo giovedì mattina, perché narrano della lavanda dei piedi. Ora, dal versetto 21 di questo capitolo 13 noi troviamo il discorso di Gesù, un discorso che parla del tradimento di Giuda e parla della glorificazione del Signore e ancora preannuncia il rinnegamento di Pietro. Ascoltiamo il brano del Vangelo dal versetto 21. Dette queste cose Gesù fu profondamente turbato e dichiarò, in verità, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola a fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava ed egli chinandosi sul petto di Gesù gli disse, Signore, chi è? Rispose Gesù, è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora dopo il boccone Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù, quello che vuoi fare fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto, compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Egli preso il boccone, subito uscì ed era notte. Quando fu uscito Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio stesso è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli disse, Signore dove vai? Gli rispose Gesù, dove io vado tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse, Signore perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù, darai la tua vita per me. In verità, in verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Di questo brano, cari fratelli e sorelle, vi invito anzitutto a guardare alla centralità di Gesù. Tutti quanti conosciamo l'ultima cena di Leonardo da Vinci, il cenacolo esposto nel convento di Santa Maria delle Grazie, per il quale fu affrescato appunto a Milano. Bene lì, al centro di quel bellissimo dipinto c'è Gesù. Certo con uno sguardo carico di tristezza, ma è il Signore. Sembra che ci dica ancora che il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio stesso è stato glorificato in lui. Cristo sa che va incontro alla passione, però quella passione è per la gloria di Dio, cioè perché Dio manifesta il suo amore a tutta l'umanità. Perché la gloria di Dio è l'uomo vivente, diceva un padre della Chiesa. La gloria di Dio è la persona che scopre l'amore di Dio del prossimo e lo vive. Per questo al centro del nostro presepe c'è la croce, come un trono di gloria. Però attorno alla croce, o meglio la croce c'è perché c'è il peccato e lo vediamo qui nelle sue forme più raccapriccianti, il tradimento di Giuda e il rinegamento di Pietro, che si preparano già alla strada. Certo noi nel racconto della passione incontreremo i soldati, i crocifissori, coloro che condannano Gesù, Pilato, i sacerdoti, avranno tutti espressioni e gesti violenti. Ma noi nella nostra sensibilità umana ci rendiamo conto che la violenza più grande non è quella che viene da persone che magari non conosciamo, ma noi soffriamo maggiormente quando chi sta accanto a noi ci può fare del male, ci fa del male. E quello che accade a Gesù è a tavola con Giuda e gli dice uno di voi mi tradirà. E Giovanni che si avvicina a Gesù e gli chiede chi è questa persona. Gesù consegna un pezzo di cibo intinto a Giuda e dice l'Evangelista Giovanni, dopo il boccone Satana entrò in lui. A quel punto ecco Giuda si sente quasi scoperto ed esce dal cenacolo. Annota l'Evangelista Giovanni, era notte, come per dire che nel cuore di Giuda si è fatta notte. Che mistero il peccato, che mistero il tradimento, il male, che può prendere anche persone che sono state sempre con Gesù. Gesù era uno dei dodici. Perché ha tradito il Signore? Rimane un grande mistero. Certo lo ha venduto per trenta denari. Qualcuno si è quasi destreggiato con le motivazioni che potevano aver spinto Giuda a fare questo. Forse voleva mettere Gesù nella condizione di schiacciare con la sua potenza e con i suoi prodigi il potere dei Romani perché Giuda voleva la liberazione del popolo ebreo da questi oppressori. chissà. Certamente il Vangelo ci dice che Giuda, uno dei dodici, tradisce il Signore, lo vende, ma poi viene preso dal rimorso e si toglie la vita dopo aver gettato nel Tempio quei denari, il prezzo di sangue per il Signore. Ma c'è anche un'altra persona vicino a Gesù che lo rinnega, non lo tradisce, certo come Giuda, ma lo rinnega dopo aver fatto, abbiamo ascoltato, una professione di coraggio, darò la mia vita per te. E Gesù con molto realismo gli farà toccare la sua debolezza. Darai la tua vita per me, non canterai il gallo, cioè non arriverà inizio del giorno, prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. E Pietro sappiamo che fugge, sarà colto dal rimorso e in molti quadri ci sono quelle lacrime che segnano il suo volto e che dicono il suo desiderio di ritornare al Signore. Il Signore gli darà fiducia a quel triplice rinnegamento dopo la risurrezione, leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, segue una triplice richiesta da parte di Gesù se quell'Apostolo lo ama. Mi ami tu, Signore tu sai tutto, tu sai che ti amo. Si può essere peccatori ma si può ritornare ad amare, desiderare sempre di amare. E allora cari fratelli e sorelle, al centro c'è Cristo con la sua croce, una croce che ci dona speranza. Non è l'albero al quale si è impiccato Giuda, ma è l'albero dal quale riceviamo la vita, la vita che per tutti quanti noi è salvezza e perdono, lo stesso perdono che ha ricevuto Pietro e che riceviamo noi. Questo pomeriggio alle ore 18 per un breve momento di preghiera ci soffermeremo insieme a vivere un atto penitenziale, nello spirito di quello che la penitenzieria apostolica ci ha permesso di fare quest'anno. Però prima di chiudere questo momento di preghiera voglio ritornare ancora sui promessi sposi. Questo romanzo che ci sta accompagnando in questo tempo di pandemia perché parla della grazia di Dio in un momento storico molto simile a questo, quello dell'epidemia della peste di Milano. Ebbene verso la fine dei promessi sposi abbiamo che Renzo si ricongiunge a Lucia e la ritrova nel lazzaretto, però prima di incontrare la sua promessa sposa incontra Fra Cristoforo, un uomo che era stato violento, aveva ucciso un altro uomo e aveva chiesto il perdono e aveva ricevuto in dono dalla famiglia della persona uccisa un pane che porterà come una reliquia sempre con sé e di cui farà dono agli sposi. Prima dell'incontro di Renzo con Lucia e del ricongiungimento di queste due persone che potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore, ecco Fra Cristoforo porta Renzo davanti a colui che è stato la causa di tutte le loro sventure, don Rodrigo, che aveva impedito il matrimonio di Renzo e Lucia, che aveva fatto rapire la sua sposa. Ora è uno dei tanti appestati che si trova nel lazzaretto. E allora Fra Cristoforo e dietro vediamo lo spirito cristiano di Manzoni ci insegna che bisogna perdonare sempre. Ecco le parole del grande scrittore Lombardo. Dopo che gli ha detto che è necessario perdonare e gli dice, e se tu lo vedessi Renzo a don Rodrigo cosa gli diresti? Pregherei il Signore di dar pazienza a me e di toccare il cuore a lui. Ti ricorderesti che il Signore non ci ha detto di perdonare ai nostri nemici, ci ha detto di amarli? Ti ricorderesti che egli l'ho amato a tal punto da morire per lui? Sì, col suo aiuto. Ebbene, vieni con me. Hai detto, lo troverò, lo troverai. Vieni e vedrai con chi tu potevi avere odio, a chi potevi desiderare del male. Volergliene fare, sopra che vita tu volevi far da padrone. E presa la mano di Renzo e stretta la come avrebbe potuto fare un giovinetto sano, si mosse. Quella, senza assar di domandare altro, gli andò dietro. Dopo pochi passi, il frate si fermò vicino all'apertura di una capanna. Fissò gli occhi in viso a Renzo, con un misto di gravità e di tenerezza, e lo condusse dentro. Stava l'infelice, cioè Rondrodico, in moto, spalancati gli occhi, ma senza sguardo. Pallido il viso, esparso di macchie nere, nere ed enfiate le labbra. Il petto si sollevava di quanto in quanto, con un respiro affannoso. La destra, fuor della cappa, la premeva vicino al cuore. Tu vedi, disse il frate, con voce bassa e grave, può essere castigo, può essere misericordia. Il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo che ti ha offeso, è lo stesso sentimento. Il Dio che tu pure hai offreso avrà per te in quel giorno. Benedicilo e sei benedetto. Ecco, il sentimento che tu avrai verso quest'uomo sarà il sentimento che Dio avrà nei tuoi confronti. Quando ti presenterai davanti a Lui, ci ricorda le parole del Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, e conclude il brano con la consegna di Fra Cristoforo, che Fra Cristoforo fa a Renzo e Lucia di un pezzo di pane che è conservato in una scatola. Prima di salutarsi, ecco fa questo. Levò dalla sporta una scatola ad un legno ordinario, ma tornita e lustrata con una certa finitezza, cappuccinesca, e proseguì. Qui dentro c'è il resto di quel pane, il primo che ho chiesto per carità, quel pane di cui avete sentito parlare. Lo lascio a voi altri, serbatelo, fatelo vedere ai vostri figli. Verranno in un tristo mondo e in tristi tempi, in mezzo a superbi e a provocatori. Dite loro che perdonino sempre, sempre, tutto, tutto, e che preghino anche per loro, per il povero frate. Vi invito quest'oggi, cari fratelli e sorelle, a mettere nel vostro presepe un pezzo di pane. Ci ricordi il pane quotidiano, ma ci ricordi soprattutto il pane del perdono. E guardando quel pane oggi pensate, ecco, se io dovessi chiedere scusa ad una persona, le chiederei questo pegno, come ha chiesto Fra Cristoforo, un pezzo di pane per dire che, ecco, sono stato perdonato. È il impegno di un perdono grande, quello che riceveremo dal Signore. E vogliamo concludere la preghiera di oggi con la preghiera del Padre nostro. Prima di dirla, voglio fare gli auguri con tutti quanti voi, la Sua Eccellenza Monsignor Felice di Molfetta, il Vescovo Emerito della nostra Dioce, si dice, Rignola Ascoli Satriano. Oggi compie 80 anni. Avremmo voluto festeggiare con lui, con gli altri sacerdoti e poi l'avevo già invitato a celebrare in cattedrale il 23 aprile. Questi erano programmi quando la pandemia non c'era ancora, ma avremo modo di festeggiarlo. Intanto diciamo tanti auguri, don Felice, il Signore ti dia tanta salute, tanta serenità e possa tu continuare ad essere testimone del Signore in mezzo a noi. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Maria Santissima di Ripalta prega per noi, Maria Madre di Misericordia prega per noi, Maria Salute degli Infermi prega per noi. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore, il suo perdono, sono la nostra forza. Andiamo in pace.